Amici dell'Ibate, siamo qui con Brian Chase. Brian, grazie per essere qui. Quindi, tu non sembrava veramente come un giocatore che veniva da un ingegno, perché tu eri davvero aggressivo sulla scuola, nell'offensiva e nell'offensiva. Ovviamente, prima di tutto, la mia energia. Non ho giocato il giocatore in tre settimane, ma... l'esterno era il migliore che ho sentito. Ho fatto alcune cose questa settimana per cercare di alleviare il dolore e oggi è stato un po' meglio. Io credo che il problema che ho fatto è quando stopto. Ho giocato, e poi l'avventura viene, e quando stopto, è quando sento il dolore. Ma, tu sai, abbiamo giocato bene, c'era una piccola energia di spark, che ci ha dato un po' l'energia. E' tutto quello che volevo fare. per portarsi avanti su Sassari. So, Brian, abbiamo visto un po' di equilibrio durante questo gioco, sull'offensiva, e sull'offensiva c'era molta aggressione, soprattutto sul perimetro. E credo che... questo era, magari, il problema nei primi paesi di gioco. Credo che stavamo cercando di capire cosa è la nostra identità, e stavamo pensato troppo, su due bordi del flore, invece di solo giocare. oggi abbiamo vinto il nostro primo gioco, quindi ora abbiamo un viso per vedere cosa abbiamo fatto per vincere questo gioco, e ora possiamo provare di andare in avanti, in questo modo. Lui dice che, praticamente, prima nelle prime due partite, visto che abbiamo visto molto equilibrio in attacco e grande aggressività in difesa, questo era proprio il nostro problema, perché pensavamo troppo a quale potesse essere la nostra identità sul campo, e quindi non riuscivamo a mettere in campo quello che noi siamo veramente, sia in attacco che in difesa. Oggi l'abbiamo visto, e dobbiamo seguire questa visione. Quindi, devi seguire questa visione, in questa settimana. Credo che il gioco è molto importante anche per l'atmosfera per la squadra? Of course. Everybody on the team are very big competitors, you know, so we have a vision for the season, and to start off with three losses, you know, yeah, very tough, you know, and I'm very angry because we have three losses and then I'm injured, so, just, it's double for me. But, you know, now, we got a bunch of good guys, but of course, winning cures everything. So, when you win, everybody's happy. When you continuously lose, then, you know, yeah, but no, we're okay, we're okay. Thank you very much Brian, and good luck for the season. so, thank you. Hai.